La considero stupida, inutilmente volgare e in qualche modo induce all'emulazione di gesti, modi, linguaggio, abbigliamento in qualche modo l'ha dissacrata i giacchi, però anche quello poi è un modo di, perché l'ha ridicolizzato la ritualità camorristica, fa ridere della sdrammatizza e dimentichi quell'altra, che è la riproposizione di un modello che esiste solo in una frazione di luogo che non appartiene a nessuna città. Parlano di una sorta di napoletano ma che in realtà esiste in tutte le metropoli del mondo. Non lo so cosa, non crede che si possa andare a proibire. C'è stata una discussione, dibattita anche riguardante un amico a Castelfortuno che aveva proibito di fare uno spettacolo in piazza di neomenodici, dicendo che neomenodici eccetera eccetera eccetera. Non sono d'accordo. Probabilmente le modifizioni erano diverse, non sono state esposte pubblicamente, ma così come sono state esposte, è un'intromissione nella libertà di espressione che tu puoi dire che è in un giacchi, puoi dire io non do il padrocino del comune, puoi dire faccio un'affermazione che non mi piacciono queste cose, sono cattive, negativi, ma non puoi proibirle perché questa è un'altra cosa, la proibizione.